Si allontana sempre di più la possibilità che le forze di centrodestra scelgano con le primarie il candidato sindaco di Bari. L'ennesimo vertice, al quale ieri hanno partecipato anche le liste civiche di partiti minori, oltre ai più grandi, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Movimento Politico Schitulli e Fratelli d'Italia, si è concluso con l'ipotesi di un metodo alternativo. Probabilmente, ha spiegato il coordinatore di Nuovo Centrodestra, il senatore Massimo Cassano, sarà una consultazione popolare a individuare il candidato sindaco della coalizione che possa mettere d'accordo tutti. Finora, opporsi al metodo delle primarie, sono stati sia Forza Italia sia il loro candidato di riferimento, Mimmo Di Paola, che corre per la poltrona di primo cittadino con la lista impegno civile. È stato proprio l'ex amministratore di Aeroporti di Puglia a rivendicare in più occasioni la sua estraneità ai partiti. Tuttavia, dai corridoi del centrodestra sono in molti a ritenere che il metodo alternativo alle primarie sia solo un modo elegante che si sta cercando affinché tra i tre contendenti, Costantino Monteleone, Filippo Melchiorre, Mimmo Di Paola, la spunti quest'ultimo. Tuttavia, non sono ancora chiari tempi e dettagli. Le modalità della consultazione popolare saranno decise da una commissione che i partiti dovranno monitorare, ma è ancora tutto da vedere e da stabilire. E c'è chi ipotizza e il centrodestra possa pensare ad una consultazione online in perfetto stile grillino. Intanto al vertice di ieri hanno preso parte anche Puglia prima di tutto, nuovo PSI, i socialdemocratici, Giovane Italia, Mirre, Gruppo Indipendente e Libertà. E se negli ultimi giorni era il nome di Massimo Cassano, a essere circolato come candidato, capace di mettere d'accordo tutti, nelle ultime ore è tornato in ballo il nome di Francesco Schittulli, attuale presidente della provincia di Bari.